Al via il progetto Biblioteca Fuori di Sé, un nuovo servizio della Biblioteca Comunale Marconi di Viareggio, un modo dinamico e smart per rimanere connessi, troverà spazio nei canali social del comune. All'interno del progetto vari spazi dedicati, il primo dei quali è i libri a cura dello scrittore viareggino Gianpaolo Simi, cinque appuntamenti che saranno trasmessi online tutte le domeniche alle 12. Il primo è questa domenica con la presentazione delle canaglie di Angelo Carotenuto, edito da Sellerio. Ogni domenica mattina ci incontreremo per stare insieme a Gianpaolo per parlare di letteratura. E poi ancora l'attenzione ai nostri ragazzi che in questo tempo hanno così sofferto del distanziamento sociale, quindi un appuntamento il mercoledì pomeriggio alle 18, legato alla figura di Gianni Rodari, quindi un grande momento per stare insieme. E poi il sabato pomeriggio, sempre alle 18, ci staremo insieme parlando di musica, di Buccini, ma non solo, oppure grazie alla collaborazione con lo psicologo Matteo Toscano, grazie a lui appunto cercheremo insieme di superare questo periodo con le paure e le ansie che tutti viviamo. Con il ritorno in zona arancione tornano disponibili i servizi ai bibliotecari, ma solo su prenotazione. A Viareggio rimangono aperti i servizi telefonici, digitali e uno spazio per il prestito locale e interbibliotecario. Sono a disposizione i libri cartacei, e-book, quotidiani e riviste digitali e la biblioteca del libro parlato. Oltre 17.000 libri parlati a disposizione dell'utenza in collaborazione con l'Unione Italiana Cecchia e i povedenti. Oltre 17.000 libri parlati a disposizione dell'Unione Italiana Cecchia e i servizi telefonici.